ciao ragazzi di nuovo insieme oggi non è una lezione ma è un tutorial almeno ci provo perché non sono propriamente la persona più indicata per fare certe cose però ha chiesto un mio amico antonio quindi non posso mancare perché è una persona a cui tengo veramente in più col tempo tanti ragazzi allievi mi hanno chiesto che programmi software app utilizzo per studiare allora prima che appunto sfrutto la domanda di antonio per aprire magari una serie di video la prima che vi presento che è poi diciamo l'app che anche poi si trova per computer per l'ipad va su tutto sul telefono è a real pro la utilizzo mi sembra da più di dieci anni col tempo si è evoluta è diventata veramente uno spettacolo provo a darvi tutte le mio piccolo con tutta la massima semplicità possibile come sempre tutte le informazioni riguardo le funzioni principali cosa si può fare in che modo eccetera quindi giro lo schermo ora vediamo se riesco una volta essere concreto e veloce ma questa è la schermata iniziale partiamo dal presupposto che questo è a real sul mac quindi poi magari vi metto delle foto dall'ipad o dal dall'ipo esiste anche ovviamente la stessa identica versione per chi ha android windows eccetera è un'applicazione in programma che è stato poi implementato tutte le tutti i vari sistemi operativi eccetera allora la pagina iniziale la schermata iniziale e vedete qui dove c'è scritto brani è quanti brani ho io scaricati o creati scaricati perché c'è un forum che è qui dove c'è questo segnettino qui cliccandoci si apre diciamo il sito la sezione forum del sito di arial dove potete scaricare intere librerie divise per genere il latino pop rock blues jazz ci sono sia le librerie quindi intere playlist con centinaia di brani oppure con la funzione cerca non mi ricordo ora dov'è perché un po che non la uso tipo qui e se cercato un determinato brano io ho scaricato veramente il mondo perché fa parte del programma dell'app insomma quindi ora mi trovo con undecimila brani insomma da quelli che ho creato di quelli che ho scaricato cosa succede che io la utilizzai all'inizio e studio si può utilizzare anche per leggere gli accordi in live cioè nel senso ora io qui ho ad esempio la la playlist la scaletta da mia band principale il tributo ovviamente ora sono anni che ci sono non leggo più gli accordi però mettendo in ordine di scaletta i vari brani la posso utilizzare anche dall'ipad giusto solo per o se a volte o dell'apsus e quindi mi leggo gli accordi oppure anche proprio per l'ordine dei brani questa è una funzione ossia all'ultimo magari cantante decide cambiare tonalità è un pezzo magari mi torna scomodo insomma vado nella tonalità la cambio e al volo mi cambia insomma tutto poi ovviamente questo è una cosa personale quindi sono e come questo poi qui ad esempio tutto il repertorio mio tutti i brani che che ho insomma nelle varie formazioni eccetera dicevo quando la presi la studiavo soprattutto la usavo soprattutto per studiare jazz quindi mettevo di standard infatti qui ho sempre la playlist con di standard e vi faccio vedere come la utilizzano all'epoca ma l'utilizzo anche tuttora prendiamo uno standard just man vi apre la insomma la sequenza armonica la lista degli accordi che sono totalmente editabili a partire dalla tonalità poi modifica io se qui invece di do major 7 voglio solo do prendo solo se voglio do vedete 10 milioni di di accordi ad nona e di conseguenza poi quando andrò ad ascoltare nei vari stili possibili immaginabili la base che si crea e invece suonarmi do major 7 mi suonerà do in questo caso ad nona quindi io posso editare modificare gli accordi come voglio cioè in tutte le maniari possibili voglio togliere uno mettere due battute di la minore ad esempio faccio così questo segnettino della ripetizione eccetera poi che dire una volta che ho deciso gli accordi modificati eccetera si va ad ascoltare e si può fare veramente anche qui in 12 milioni di modi questa sezione jazz io ad esempio metto medium up swing di base mi da lui un tempo vedete 160 modificabile diamo 180 ascoltiamolo anche se ora è l'audio del computer aggiungo la batteria accorgi lo stesso vuol dire che il pianista virtuale si prende la licenza diciamo di suonare come carlo vuole quindi raccordi semplicemente tra basso vedete posso cambiare anche per questo momento ma lo devo giudizio riusci a contrabbasso metto in fretta eppure lo stesso brano metto proprio a ballad quindi mi darà ovviamente 60 batteria suonerà diversamente quasi da spazzo in post giri oppure metto anche in loop una determinata sequenza di accogli se io voglio studiare solo anche proprio diciamo voglio studiare l'accordo do ad nona lo metto in loop magari tolgo la batteria e sento la sonorità dell'accordo per esempio altre funzioni andiamo a vedere magari in un contesto più più pop queste sono le progressioni di accordi che io uso per studio questo esercizio per quarte quindi studiavo tutti gli arpeggi maggiori settima per quarte se volete sentire la sonorità dei vari accordi senza la ritmica ad esempio c'è long notice che si può mettere un pad eccetera oppure le progressioni vedete modali sequenze armoniche più importanti quindi primo sesto secondo quinto lo metto sento come suona e ci studia sopra questo sta parlando corey jazz ad esempio se vado nel latin metto anzi anche qui tipo bossa se voglio studiare la bossa andando più sul pop cambia tutto shuffle ad esempio suoni spettacolari che lo metto in pade insomma questo è il quarto d'esercizio poi lo 251 qui ci ho veramente studiato in padella anni e anni che poi cambia tonalità 3 secondi quindi da sol minore 20 mi bemol minore eccetera altra funzione esercizi sul tempo quindi vedete aumenta il tempo di 5 bpm ad ogni giro e 3 bpm eccetera esercizi sulla trasposizione quindi trasponi di un semitono ad ogni giro tutta roba che per studiare poi si possono cambiare ripeto di suoni la batteria invece di suonare la batteria si può mettere clic o clic sul 2 su 4 molto utile nel jazz quindi sonnerà così eccetera una volta poi che volete magari a base per utilizzarla in altri programmi cioè esporta audio addirittura esporta midi vi esporta tutte le tracce midi oppure in altri formati esporta partitura si può fare sia con un brano solo oppure con un'intera playlist in formato a real se ve la volete inviare tra amici e colleghi oppure se dal computer volete inviare al telefono formato a real esporta playlist e l'aprite dal telefono oppure pdf vi da tutti gli spartiti di una determinata playlist in pdf forum questo mi ricordo cos'è insomma ragazzi c'è veramente di tutto veramente di tutto ora io sicuramente mi scordo qualcosa poi ci sono tante tante impostazioni se volete invece della m minuscola il meno alla vecchia maniera per gli accordi minori colore del test colore sottofondo evidenzia simboli chiave di violino anche perché poi c'è tutto un discorso che io ora sono anni che non uso ah qui addirittura c'è la possibilità di sincronizzare tutti se avete aria sui vari dispositivi sincronizzate quindi se modificate su computer vi si modifica automaticamente anche su telefono eccetera poi dicevo c'è anche tutta una parte che ora ripeto un po che non lo uso non ricordo dov'è dove ci sono anche tutti gli accordi vedete accordi chitarra accordi culele scale c'è bretti tutto questo programma ripeto io probabilmente mi scordo qualcosa quindi vi invito a chiare le mie ulteriori informazioni riguardo a quello che sono dimenticato di dirvi e questo è quattro c'è prete un'infinità di di brani ad esempio se devo studiare un' tu non mi basti mai tu non mi basti mai dove l'avevo vista prima dire lucio d'alla ho tutta la griglia degli accordi e già sono avvantaggiato tante me le sono scritte da solo tante le ho trovate ecco magari italiane si trova poco qualcosa si trova ma non molto la roba internazionale si trova già di partenza quasi tutto diciamo e quindi può essere solo magari da correggere o se la fate in una tonalità diversa eccetera vedete c'è veramente tanta roba oltretutto per studiare gli accordi è fenomenale perché come avete visto prima ritorniamo un attimo studio degli accordi ad esempio do7 alterato se non conosco la sonorità metto in loop un accordo solo quindi do7 alterato lo rimetto anche qua lo metto in loop parchi allora mi suona così vabbè mi so shuffle vabbè però insomma vi fate un'idea anche della sonorità di determinati accordi che alcuni sono veramente molto molto complessi cioè di tutto vedete aumentati ad no c2 insomma cos'è semi diminuiti diminuiti con la settima maggio c'è veramente il mondo do minore e bemolle sesta guardate qua qui c'è veramente tutto veramente tutto poi a ogni brano potete dare un titolo vostro cambiare lo stile insomma questo è il grosso del programma poi ripeto se avete ulteriori domande o approfondimenti da chiedermi sono qui altrimenti ci vediamo magari al tutorial di un altro programma utilissimo che per ora non vi svelo ci vediamo al prossimo video che vediamo qui ciao